Fraci, ma tu che avresti fatto in un'altra vita? Per vincere le elezioni dobbiamo partire col piede giusto. Questo. Entro un anno avremo 30 punti in meno di pressing fiscale. 80.000 posti in più. Allo stadio. E soprattutto, rigore. Per noi. Potevo fare pure il presidente. Ciao ai numeri. Con 10 e l'8 hai tutti i numeri per provare a vincere. Cogli il tuo momento fortunato. C'è un'estrazione ogni 5 minuti. Direi che il bilancio è positivo, no? Te credo, hai vinto. 10 e l'8, questo sì che è un gioco. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. O metà per uno? No.